buongiorno ragazzi martedì 20 settembre siamo a 16 17 days out ho voluto complicare ulteriormente la vita in realtà non solo io nel senso io nel mio coach perché perché al peso di 83 kg dovendo diciamo ancora scendere diciamo gli ultimi liquidi quindi probabilmente un altro chino sarebbe andato via gareggiare 82 kg in una categoria dove il peso fino a 90 kg significa trovarsi contro gente fino a di te diciamo mi sarei trovato nella parte bassa del del peso quindi questo che significava sicuramente partire svantaggiati e allora abbiamo optato per provare a fare rientrare nella meno 80 kg sicuramente una cosa che non sarà semplice perché perché comunque il peso è già sceso di 19 kg ovviamente non si muove più come si poteva muovere all'inizio perdere peso adesso diventa molto molto complicato le calorie se non abbassano ancora lo stress la stanchezza sono a livelli elevatissimi e diventa veramente veramente dura però diciamo le sfide mi piacciono per quanto abbia anche paura un po di rimpicciolirmi tanto ma penso anche che se riesco in tempo ad arrivare agli 80 kg in modo da poter ricaricare di poter stare veramente una condizione spaziale già adesso una condizione che non ho mai avuto quindi sicuramente sono soddisfatto però posso fare ancora di più quale sarà poi dicevo l'obiettivo fare la tru novice che sarebbe la categoria di bodybuilding per chi gareggia la prima volta in pro league e poi la meno 80 kg dopodiché la settimana successiva madrid avendo un corpo super recettivo sovraccompensare supercompensare quindi alzare i carboidrati soltare quelle bandi liquidi glicogeno per riempire i muscoli di 34 kg e fare la meno 85 kg che c'è nella gara di padre che invece non c'è in pro league altrimenti ha fatto anche lì la meno 35 in questo modo sicuramente sarò ancora più tirato e ancora più pieno ovviamente dovremmo cercare di gare in gara di sfruttare scariche ricariche salire con le calorie in modo da riempirci sempre di più quindi magari salire anche col peso con l'obiettivo fino alla fine delle gare invernali di fare perché poi parola dovrò fare la meno 90 quindi salire magari 86 87 kg in gara questo lo vedremo stata facendo magari rinuncerà anche a un pizzico di tiraggio estremo per avere più volumi che comunque 87 kg 28 kg sono 78 kg in più di peso che si vedono addosso ovviamente e possono fare la differenza specialmente se una condizione estrema diciamo sono fiducioso sono anche molto curioso perché l'anno scorso ovviamente con un fisico diverso ho fatto sempre a meno 80 kg però dobbiamo rientrare sempre in quella categoria ogni volta era una guerra una sofferenza unica anche perché però fissato di fare i classic così quest'anno ovviamente ciò non accadrà perché succederà solo in questa gara dopo di che nelle altre le categorie la categoria pesa sarà più alta quindi anzi potrò sicuramente mangiare di più quindi spero che per tutti questi giorni di fame nera dopo sarà un po più facile il percorso sono di nuovo in scarico ovviamente stamattina 82 e 7 il peso quindi sono uscito di altri 400 grammi dopo 3-4 giorni di stallo ma stamattina alle sera ero con gli occhi sgranati a letto dalla fame con i crampi allo stomaco credo che per togliere questi due chili e mezzo abbondanti sarà veramente veramente una guerra però va fatta e non dice avere paura detto questo ieri ho girato un video quello che è di dorso purtroppo siccome ho comprato un microfono veramente scadente faceva un po eco quindi ho dovuto modificare un po il video perché comunque l'ha fatto bene era bello mi dispiaceva portarlo ho comprato un nuovo microfono che arriverà domani però questo dovrebbe essere di senta è meglio e spero di risolvere il problema perché voglio continuare a creare questo tipo di contenuti un po più tecnici credo siano molto 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 più utili oggi facciamo petto e braccia vado a santeramo proverò di nuovo a registrare con l'audio vediamo se riesco a trovare un modo con quel microfono vecchio di far sentire un po meglio altrimenti per questi due video mi dovrò arrangere così per poi sicuramente migliorare la qualità considerato che da poco che registro mi devo anche accontentare magari senza di crescere piano piano anche con la qualità dei video però sono affatto detto questo ragazzi ora mi vengo da fare un caffè e dopo mi vengo da allenare e ci vediamo in palestra allora ragazzi il piano iniziale era quello di andare a santeramo ovviamente è saltato motivo per cui siamo tutti ad allenare la live e motivo per cui devo modificare l'allenamento perché la scheda è stata fatta sotto la palestra e alcuni esercizi non ci sono come per esempio il primo è una cable fly che è un macchinario che c'è lì che qui non c'è che probabilmente vado ora a sostituire con la pectoral machine della panatta qui come vado a lavorare qui vado a lavorare in esercizioni alte perché ovviamente il primo esercizio un esercizio di preattivazione tra virgolette del fettorale di isolamento vado a lavorare due serie faccio un po' di serie di avvicinamento faccio una prima serie allenante tra i 16 e i 20 colpi classica dopodiché la seconda andrò a fare una face pose 10 secondi di pausa max 10 secondi di pausa max finché non riesco a fare più di 5 colpi prendo il microfono in mano perché purtroppo questo fa un po' schifo e fa l'eco finché non mi arriva l'alto proprio così magari si sente un po' meglio allora primo esercizio facciamo la pectoral qui facciamo due serie di avvicinamento visto che sono freddo allora qualche tip qui in per quanto guarda l'altezza immaginiamo più o meno che il braccio sia l'altezza del capezzolo quindi anche la presa in modo che sia parallela ok il sedere lo appoggiamo bene al cellino quindi non ci andiamo in avanti una volta che partiamo abbiamo adducemo le scapole tiriamo fuori il petto allunghiamo strizziamo bene cerchiamo di di strecciare al massimo il pettorale qui ne accentrica è un secondo di contrazione inconsciente io ho un po' un dolorino al bici da destra quindi eviterò di strecciarlo completamente perché mi fa un po' male e mi devo preservare oggi è dura ragazzi stanotte non ho dormito niente a me si sveglia tra le sei per fare colazione mi sono messo a dormire ma le energie mancano tutti i settori così si tira a campare e vabbè andiamo questo esercizio è veramente fantastico ragazzi lo fate bene strecciate bene il petto di accorciamento di allungamento da un pump bello come sempre non abbia carbo in corpo bello bello allora prima si era allenante anche se non male il braccio quindi bisogna di non forzare qua a fare butto sempre leggermente il busto avanti quando streccio perché riesco a sentire meglio il pettorale ma lungo vado dietro vado davanti e streccio la giocamento non 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 ti faccio resposte, pausato perchè il primo è venuto 25, questo ne va anche un altro paio ma il braccio fa male vediamo ora 160 di arrivare su 15, vediamo quello che esce, poi decidiamo di pausa max max, 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 spera, ok, andiamo, ok, va meglio per il braccio che sto riscaldando ahhh ahhh Dura. Dura. One more. Oh. 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 muscolo target con 2-3 serie con carico crescente che si avvicinano sempre più a quello che poi noi andremo a utilizzare come carico effettivo. Ovviamente più noi ci avviciniamo al carico effettivo più le definizioni che andiamo a fare nelle serie di avvicinamento diminuiscono. Ad esempio la prima serie di avvicinamento faccio 8-10 coppi con un peso molto leggero, già dalla seconda tendo a ridurre 6-7 coppi. Magari la terza di quella che devo fare adesso, che con un carico vicino a quello che sarà quello allenante, faccio veramente 2-3 coppi. Dopodiché recupero un minuto e mezzo e parto con la prima serie che sarà poi quella effettiva, quella allenante. Questo è già un po' spiega a partire, recuperato abbastanza parlando. Ora faccio veramente 2-3 coppi massimi. Ok. Prima serie allenante. Tutto il pacco pesi. Allora qui all'apice della mia porta, un mezzo e sette e mezzo fa, riuscivo a fare 8 coppi, nuove coppi. Però è parecchio che non la faccio. Venga, venga. Io parlo da solo, non è un problema. Non rimane un video. Sto dicendo che quando ero all'apice della posto, riuscivo a fare 8 coppi, almeno no? Poi vieni i dubbi, però vediamo. Non poniamoci dei minuti. 4-3 coppi, also 1-2-3-4-5-1-2-3-0. dai dai 10 quasi e mezzo non pensavo non pensavo signori un buon uccidimento ci insegna che la seconda serie parità di carico non potrà mai avere le stesse rette della prima quindi se abbiamo fatto bene i compiti nella prima serie adesso difficilmente usciranno di nuovo i bicicotti però ovviamente proviamo che viene viene giusto così come ho detto prima che ho fatto un buon cedimento la prima non posso fare l'ultimo di sisti coppia la seconda, the last, due stripping 1 2 2 3 4 4 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 dai dai la difesa che sempre spetta prima se magari la singola serie c'è tipo sui cocchi e scappa lo stesso peso pure di più però come continua la serie boom muoio questo non sarà più proprio crolla l'energia all'improvviso diciamo che questa è una prova che faccio perché io devo fare una bench press piana che non esiste voglio vedere se riesco a fare una tipica c'è stress ai cavi bassi non sto inventando io adesso magari non esce una schifezza figura di merda no no devo riscaldare vediamo come vediamo come viene perché qui praticamente il problema è che se fosse una cable press i cavi sarebbero più vicini e quindi partire dal basso e andare perpendicolare purtroppo ci sono dei cavi normali fanno un po' in diagonale quindi esce fuori un mix tra una croce e una spinta però vabbè non fa niente che è così e vabbè vediamo cosa ne esce fuori che è così fuori un po' in che sono un cubo di rubik un cubo di rubik e masser lanza signora non c'entro cazzo non c'è la musica di sopra a fondo il cavo in linea con la spalla tappa o knock out quarto e ultimo allora c'è espresso qui semplicemente termine in più di natura per uno stimolo un po diverso quindi invece di tenerlo classico lo terrò stretto ovviamente non è un discorso di lavorare sul centro del petto perché sono cavolato mi prende da uno stimolo un po diverso dal pettorale due serie una da 11 15 la seconda scala il prodotto prima del 25 per cento e farò una in accentrica lenta con accentrica lenta in 5 secondi una normale una 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 finché morte non ci sei pari prossimo mecc costura tratta la media saliamo il primo di petto 5 centrica 5 concentrica una normale anche qui sempre una serie classica una serie con te abbiamo sempre stimoli diversi cosa fondamentale ragazzi però per me è adattare il muscolo e andiamo andiamo signore dammi la forza ciao today ah fina wow no ma nea non penso che c'è da 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 c'è come per bianco qua stronzo io dimenticato dovevo fare l'ultima crocci sul panca 15 50 colpi target rex qui max 20 colpi più o meno dicevo di paura max finché arriva a 50 qui ovviamente stesso discorso esercizi isolamento movimento completo massimo allungamento in fase di discesa braccia leggermente piegate né troppo tese né troppo piegate leggermente il chiodo allungherà un massimo effetto quando scendiamo moda serie tutte le fibre che si allungano quando saliamo non facciamo sbattere i manubri ma strizziamo effetto qui lasciate stare carichi troppo elevati quindi dobbiamo andare a lavorare sulla qualità quindi facendo esercizio di isolamento sfinire sfinire il muscolo potere pochi poco carico alter ex esercizio di pompaggio e passiamo alle braccia ultima ultima ah 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 over oh ah 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 muscolo lavora comunque quindi un lavoro specifico ci sta però andrà a dedicare molte sessione alle braccia va bene specialmente se ci sono delle grosse carenze altrimenti a mio avviso sono d'accordo inutile andare a esagerare col carico e col volume arrelante sulle braccia perché comunque vengono già molto coinvolti in tutte le sessioni alle lanti praticamente tra me che le gambe primo esercizio simuliamo delle dippole parallele per una triceps machine presa neutra io ovviamente faccio sempre due tre serie di avvicinamento tutto il busto leggermente in avanti chiudo i gomiti cerco di salire al massimo un secondo di contrazione in discesa e riparto contrazione e riparto che quando presevo un quintale metto 40 e 40 scendevo facile adesso praticante ha messo 80 e praticamente mi devo buttare giù con tutto il peso per farlo a scendere quindi ora che hai altro e metto un quintale dovrò farmi aiutare perché altrimenti sarò troppo leggero per farlo a scendere 1 2 vai ok me lascia io stando anche il bagnato so giocavamo quintale allora adesso faccio bicicletti prima esercizio parlo ma non mi ha affermato 7 e 10 occhi per braccio esercizio parlo ma non mi ha affermato ma non mi ha affermato ma non mi ha affermato non mi ha affermato ma non mi ha affermato ma non mi ha affermato mai Sanchissimo Allora Qualche piccolo tip Per i bicipiti In questo caso Carl con i manubri Allora, vabbè le gambe sempre leggermente inclinate Le braccia In questo caso che Noi lavoriamo con due manubri Quindi non abbiamo il bilancio che ci vincola Ad andare Con le braccia dritte Perpendipolari Possiamo, anzi dovremmo Quando andiamo in fase concentrica Invece di andare dritti Puoi andare leggermente verso l'interno Perché? Perché Andiamo con la curva fisiologica Del braccio E miglioriamo il profilo di resistenza Quindi riusciamo a fare anche una miglior contrazione Invece di andare così Andando leggermente verso l'interno Prima cosa Seconda cosa ovviamente Massimo allungamento Io vedo sempre questo movimento Di fermarsi qua e ripartire No Completiamo il movimento Allunghiamo completamente il braccio Lo distendiamo E ripartiamo Quando arriviamo sopra Un secondo di contrazione del disciplino Che è fondamentale Per poi ripartire Ultima cosa I gomiti Non aderenti completamente al busto Li portiamo leggermente avanti Vi faccio vedere Ok Andiamo I just wanna make you feel right When I'm I need to stop reminiscing I just wanna make you feel right When I'm Push down Push down fune Qui 16-20 coppi Lavoriamo su alter ex Secondo faccio un bel resposte Di secondi max Di secondi max Allora Qui poche regole Mi avviso Sicuramente La cosa è Concentrica Cosa è concentrica Massimo stretch Stendiamo con bene Delle braccia Allarghiamo la fune Che ci lo permette di fare In questo modo In modo da migliorare La contrazione Del precipite Ok Quando saliamo Portiamo leggermente avanti I gomiti Li manteniamo fermi L'avambraccio Sale su Da questa posizione Ripartiamo Strecciamo completamente Il precipite E andiamo Cambiamo leggermente piegate Un Oh Oh S than Oh Wow Oh 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 e allora ogni giorno signora pietà ultimo nuovi esercizi ultimo allora bicipiti cavi alti sempre alta reps sempre respost qui qualche consiglio che vi do allora cazzo risi ah sempre per gli schiappi facciamo bibi bibi allora i consigli della giornata sono dove c'è molto da dire semplicemente partiamo mettiamo bene al centro i gomiti non sono bassi sono più alti della spalla non do da riuscire a contrarre meglio il bicipite il braccio le braccio sono devono corrispondere alla carrucola né più dietro né più avanti partiamo chiudiamo contrazioni di un secondo allunghiamo al massimo e ripartiamo a a a a a a a ultima press pause come prima vedo di farne due se non muoio prima ah ah! ah! ah miscellane di pross sto facendo 2 quando faccio le doi non è ancora no 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 a a a a a a a ah a oh 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 Buongiorno, buongiorno.